benvenuti sul mio canale oggi vi parlerò di blizzovoif bwpg 4 contiene delle batterie litio ferro fosfato da 12.8 volt 25 ampere con 320 watt andiamo all'unboxing all'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni con la lingua italiano se c'è anche a lingua italiano e le sue specifiche tecniche ecco qui la nostra centrale elettrica in tutta la sua leggerezza pesa infatti solamente circa 5 kg all'interno delle scatole troviamo il cavo per l'alimentatore e poi troviamo anche l'alimentatore con 4 ampere con uscita jack ma troviamo anche il cavo per l'accendisigari con uscita jack e anche il cavo per collegare i pannelli solari fino a 100 watt e anche il cavo usb c usb c premendo brevemente il pulsante di accensione si accende il display mostrando la percentuale di carica e le porte attive usb 12 volt jack da 5.5 e accendisigari andiamo alla descrizione di tutte le porte abbiamo una porta jack da 5.5 mm 12 volt uscita massima 10 ampere una torcia con segnalazione sos possibile due porte usb 5 volt 2.4 ampere ciascuna una porta qui charge con massimo 18 watt di uscita una porta sbc power delivery da 60 watt dietro troviamo l'interruttore per attivare le due prese di da 220 volt troviamo anche l'uscita da 12 volt con attacco per auto e l'ingresso per caricare la centrale elettrica e una ventola di raffreddamento dopo averla accesa possiamo testare la sua potenza premendo l'interruttore dietro attiviamo la 220 volt e fa accendere subito la lampadina con la luminosità pari alla corrente di casa questa centrale elettrica è protetta da bassa tensione sovraccarico sul riscaldamento o cortocircuito è l'alleato perfetto per le tue gite fuori porta per le sue dotazioni grazie e alla prossima